Sugli aumenti dei pedaggi delle autostrade a 24 a 25, il primo round lo vincono i cittadini. Nei giorni scorsi, infatti, c'è stata l'udienza in tribunale contro l'aumento dei pedaggi sulle autostrade abruzzesi. L'azione mirava a far sospendere o ridurre gli aumenti dei pedaggi, in quanto il concessionario si sarebbe reso in adempiente nei confronti degli utenti dei tratti autostradali gestiti rispetto all'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione. All'apertura del processo, ovviamente, strada dei parchi aveva sollevato numerose eccezioni, tra le quali anche il difetto di competenza del tribunale. Il giudice, invece, ha rigettato tutte le eccezioni del concessionario, accogliendo la linea seguita dagli avvocati dei cittadini Alessandro Giffi, Domenico Di Falco e Bruno Capponi. Il processo, quindi, proseguirà regolarmente per l'accertamento dell'inadempienza di strada dei parchi. Il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, ha detto vogliamo tutelare l'interesse dei cittadini utenti e questa è una prima vittoria, un piccolo passo che speriamo sia di buon auspicio. Grazie. Grazie.